Buongiorno a tutti, nel video di oggi andremo a vedere come funziona un'estensione gratuita, è un modulo per l'amministratore di Joomla che serve per velocizzare un po' le operazioni classiche di gestione di un sito web Joomla. Com'è nata questa estensione? Fondamentalmente perché l'interfaccia amministrativa di Joomla 4 e Joomla 5 è molto diversa rispetto all'interfaccia amministrativa di Joomla 3 e questo all'inizio aveva destato delle perplessità diciamo, quindi era stata creata questa estensione per implementare un menu orizzontale in alto, nella parte alta del sito esattamente come c'era nel template amministrativo di Joomla 3. Bene, in realtà poi questa estensione si è sviluppata, ha inserito nuove funzionalità e quindi adesso si può utilizzare anche per creare dei menu personalizzati all'interno del proprio sito web. L'estensione in questione è il menu admin di Foca, foca.cz che è uno degli sviluppatori più famosi del mondo di Joomla, fa un sacco di altre estensioni, altri componenti, Foca Gallery, Foca Open Graph, vari ed eventuali. Ecco, questa è un'estensione, è gratuita, si può tranquillamente scaricare e installare e adesso andremo a vedere come fare, come andare a inserire un menu tra i loro preimpostati oppure un menu custom con le cose che interessano a noi. Bene, buona visione. Bene, eccoci qua nel pannello di controllo di Joomla. Oggi non andremo a vedere nulla lato frontend ma andremo a vedere soltanto lato backend, come funziona questo modulo. Bene, la prima cosa da fare è andare a scaricarlo dal sito ufficiale. Per farlo molto semplicemente cerchiamo su Google Foca Top Menu e vediamo che il primo risultato che ci salta fuori è proprio quello che ci interessa, che è Foca Top Menu Modulo. Clicchiamo e a parte qui che c'è un'introduzione che ci spiega più o meno che cosa fa, i requisiti minimi, quindi Joomla 4, Joomla 5 ovviamente e PHP 7.2, quindi non funziona con versioni di PHP più basse, c'è anche un video che mostra fondamentalmente come funziona, ma quello che noi interessa è andare a scaricarlo e a installarlo. Quindi clicchiamo su Download, chiudiamo un po' di add che ci sono nel sito di Foca e andiamo a scaricare la versione che ci interessa, quindi per Joomla 5 o per Joomla 4. Nel mio caso voglio andarlo a installare su un Joomla 5.02, quindi andrò a scaricare la versione per Joomla 5. Clicco su Download ed ecco che me lo fa scaricare. A questo punto andiamo ad installarlo, è esattamente un'essenzione come le altre, quindi andiamo in Sistema, clicchiamo su Installa estensioni, carica file pacchetto, andiamo a trascinare il file scaricato nella parte centrale della pagina, ecco che parte l'upload e parte l'installazione. Bene, a questo punto ci dice il menu, il menu module è stato caricato, ovviamente cosa va fatto? Va abilitato e poi ovviamente configurato. Possiamo andarci o cliccando su Module Manager, qua direttamente nel link, oppure da Contenuto Moduli Amministratore. Tra tutti i moduli che troviamo, quello che interessa a noi ovviamente è Foca Top Menu, che è quello che è stato appena installato. Quindi ci clicchiamo sopra e lo settiamo per farlo vedere nel nostro amministratore. La prima cosa da fare ovviamente è settargli la posizione. La posizione che interessa a noi, giusto per far vedere questo esempio qua, in Atom, che è il template di default di amministratore, potreste avere anche degli altri template amministratore, nulla vi impedisce di installarne delle altre scaricate online, ovviamente, ma in questo caso noi andiamo a parlare del template di default che è Atom, andiamo a selezionare in fondo in fondo Top Personalizzato, oppure tra parentesi quadra che è il nome tecnico, diciamo Custom Top. Titolo possiamo lasciare mostra e mettiamo stato pubblicato. Se io salvo, il mio modulo adesso è attivo. Come vedete, qua in alto sono comparsi, che cosa? Dei nuovi, delle nuove voci di menu. Chiudiamo, adesso io non posso cliccarlo perché sono all'interno del menu, però io chiudo ed ecco che le voci diventano attive e posso andare a selezionare quello che mi interessa. Come vedete, il menu è una copia, diciamo, di quello che era il menu di Joomla 3. Quindi ho contenuto, articoli, da qui posso cliccare già direttamente a nuovo articolo, menu, aggiungo una nuova voci di menu, componenti, utenti, sistema. È in realtà la copia del menu che trovate poi qua a sinistra, ma semplicemente è anche qua in alto. Andiamo a questo punto a modificare, perché a me avere una copia del menu di sinistra non interessa, andiamo a vedere che opzioni abbiamo. Quindi ricerchiamo il nostro modulo. Eccolo qua. In queste opzioni che cosa mi sta dicendo? Quale menu vuoi far vedere? In questo caso ho solo l'opzione dei preset. I preset sono dei menu preimpostati che questo modulo ci dà a disposizione. Il preset principale, quindi il preset standard di default, è quello del menu principale di Joomla, è quello che vedete appunto, come dicevamo, nella colonna di sinistra. Ma qui in realtà... Ma qui in realtà ne abbiamo tanti di preset possibili. A seconda di quello che ci interessa, possiamo decidere di installare uno o più preset. Quindi prendiamo per esempio configurazione pannello contenuti. Se io salvo e chiudo, vedete che il menu in alto viene modificato e abbiamo solo qualcosa che riguarda i contenuti, quindi gli articoli, i flussi di lavoro, i campi aggiuntivi e i moduli Emilia. Quindi tutto quello che riguarda il contenuto del sito. Non c'è tutto il resto. Andiamo a modificare. Andiamo a prendere per esempio, anziché... Il pannello contenuti, abbiamo il menu principale alternativo. Salviamo e chiudiamo. E abbiamo che cosa? Abbiamo qui sì il vecchio menu che era nel vecchio Joomla 3. Quindi abbiamo in sistema, possiamo andare direttamente in configurazione globale. Da estensioni possiamo aggiungere i moduli, possiamo aggiungere installare, aggiorna, ecco, chi è un nostalgico del menu di Joomla 3. In questo caso qui possiamo aggiungere il vecchio menu che avevamo nel vecchio pannello di controllo anche per Joomla 4 e Joomla 5. Le opzioni sono tante. Vedete voi che cosa vi interessa, che cosa non vi interessa. Possiamo anche fare una mossa del genere. Quindi io posso decidere di prenderlo, duplicare il menu e avrò top menu 2. In questo caso, anziché menu principale, mettiamo il pannello contenuti. Se io lascio custom top, io avrò sì due menu in alto, però ci sarà un problema di overlapping. Quindi fondamentalmente i sottomenu del menu più in alto andranno a finire sotto il secondo menu. Quindi andiamo a vedere come funziona. Quindi se io faccio salve e chiudi, ecco che l'effetto è questo. Quindi io sotto ho il menu dei contenuti, sopra ho il menu di sistema, ma come vedete il sottomenu finisce sotto. Quindi non ha molto senso. Posso anche però decidere un'altra cosa. Quindi posso per esempio prendere questo top menu 2. Posso andare a metterlo, andiamo a inserirlo sempre in Atum. Andiamo a inserirlo in Bottom. Salve e chiudi. Ed ecco che io mi ritrovo nel Bottom della mia pagina un menu in più da poter utilizzare, da poter cliccare. Posso cambiargli posizione, andiamo a sistemarlo per esempio in non Bottom ma in Top, quindi magari è un po' più semplice da gestire. Io faccio salve e chiudi. Ed ecco che il mio secondo menu mi viene inserito direttamente qua. Bene, al momento non ci interessa avere il secondo menu, quindi fondamentalmente lo sospendiamo. E salviamo e chiudiamo, perché adesso non ci serve. Bene, abbiamo il nostro menu in alto. Questo qui è il menu standard, quello classico di Joomla 3, ma in realtà noi vogliamo qualcos'altro. Vogliamo qualcosa che faccia proprio per noi. Come possiamo fare con la creazione di un menu amministratore con quello che interessa a noi? Questa funzione qua, a mio avviso, è potentissima, perché a me velocizza tantissimo il lavoro, perché tanto alla fine le task che facciamo all'interno di un pannello di controllo Joomla sono sempre quelle 4 o 5 e dover andare ogni volta a cercarle magari in sistema eccetera eccetera diventa lunga, non ne ho voglia, quindi io mi creo un menu personalizzato, me lo piazzo là in alto e posso andare direttamente dove mi interessa con un semplice clic. Perché? Perché sono pigro. Come faccio? Innanzitutto dobbiamo andare a creare un menu amministratore. Quindi noi andiamo in menu e andiamo su gestione. Qui noi abbiamo tutti i menu del sito, però noi, come per i moduli, come per tante altre cose, noi possiamo andare a settare dei menu anche per il lato amministratore. Quindi qua in alto a sinistra, anziché sito, noi andiamo a selezionare amministratore, vediamo che non ce n'è neanche uno. Quindi io clicco su nuovo, qua in alto a sinistra, e mi creo un mio menu custom che poi posso andare a caricare nella parte superiore del mio pannello di controllo. Quindi lo chiamiamo menu custom, tipo di menu custom, potete chiamarlo come volete. Salve e chiudi. E una volta che lo sono andato a creare, posso andare a modificare le voci di menu. Quindi clicco su voci di menu ed ecco che posso andare a cominciare a crearne di nuove. Quindi ne creiamo una nuova. Per esempio, utilizzo tanto che cosa? Andiamo a vedere. Articoli, crea un articolo. Quindi abbiamo crea un articolo. Poi salva in nuovo. Cos'altro potrebbe interessarci? Tipo a chi va backup, facciamo un file backup. Quindi clicchiamo. Clicchiamo, crea backup. Backup profile. Mi interessa il profilo, quello di default. Start immediately, sì. Mi ricordate che Akiba Backup ha la possibilità di fare il backup con un click. Quindi io clicco e parte il backup. Ecco, io voglio questa funzione. Quindi clicco su sì e vado avanti. Salve nuovo. Vediamo cos'altro potrebbe interessarci. È giusto da creare. Andiamo a vedere. Per esempio, un'altra cosa che faccio spesso è la pulizia della cache. Quindi pulisci cache. Anche qua scriviamo il titolo. Andiamo a creare l'ultimo. Tanto più o meno abbiamo capito come funziona. Seleziona. Andiamo in configurazione. Opzioni di configurazione del sito. Eccolo qua. Facciamo salve e chiudi. E abbiamo creato il nostro menu con quello che interessa a noi. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel nostro modulo che abbiamo installato, quello di Foca. Quindi andiamo in contenuto. Moduli amministratore, però a questo punto. Rie andiamo a prendere il nostro Foca top menu. E gli andiamo a dire. Anziché user preset, vedete che è saltato fuori il menu custom. Che è il menu che noi abbiamo creato. Abbiamo appena creato. Quindi io faccio salve e chiudi. Ed ecco che in alto mi si è creato un menu con quello che volevo io. Quindi io creo un articolo. Ecco qua che mi compare la schermata di creazione di un articolo. Crea backup. Benissimo. Io clicco. Ed ecco che mi parte il backup in automatico di Akiba. Con un click. Semplicemente là in alto senza andare in estensioni, componenti, Akiba, backup, backup now. Ok, capisco che è una questione di tre secondi. Va bene. Però ecco, siamo programmatori, siamo pigri. Quindi noi vogliamo che le cose vengano fatte immediatamente veloci e indolori. Adesso chiudiamo, tanto non ci interessa finire il backup. Andiamo a vedere. Comunque continuiamo. Andiamo a pulisci cache. Ecco qui. Elimina tutti. Configurazione del sito. Anche qui abbiamo la nostra configurazione del sito. Come possiamo vedere però dalla schermata, ecco che è comparso un warning che mi dice il menu amministrativo, menu custom, non contiene gestione menu, gestione moduli, contenitore componenti, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Joomla ha un suo sistema interno di controllo dei menu amministrativi. Questo vuol dire che se noi per sbaglio facciamo un menu che non contiene per esempio la gestione dei menu, o la gestione dei moduli, o la gestione dei componenti, eccetera, eccetera, e pubblichiamo solo quel menu, rischiamo, che cosa? Di essere tagliati fuori dal nostro stesso sito. Perché? Perché se noi pubblichiamo il menu principale, mettiamo il nostro menu, ma non mettiamo un link per andare alla gestione dei menu, per esempio, ecco che cosa succede? Che siamo tagliati fuori e non possiamo andare alle pagine che ci interessano per fare modifiche all'interno del nostro sito. Bene, questo qui è un check che viene fatto in automatico su ogni menu amministrativo e ogni volta ti dice guarda che manca la voce di menu X, eccetera, eccetera. Bene, se non vogliamo avere questo warning, questa scritta qui ogni volta che carichiamo una pagina, dobbiamo fare una piccola modifica sul nostro modulo. Andiamo qui in contenuto, moduli amministratore, andiamo nel nostro foca top menu, ci clicchiamo sopra e andiamo a selezionare in check menu no. In questo modo che cosa facciamo? Diciamo a Joomla di non controllare quel menu e di non controllare che ci siano le voci, se eccetera, eccetera, di sistema, perché non ci interessa, è un menu secondario, quindi non ci interessa che ci siano quelle voci, quindi io metto su no, clicco su salva e chiudi ed ecco che il warning è scomparso. Bene, abbiamo visto come funziona questo modulo di foca, abbiamo visto che è estremamente comodo, è comodo per noi che gestiamo i siti, ma in realtà se ci pensate è comodo anche per i vostri clienti, nel senso che se date un accesso al pannello di controllo a un cliente magari può perdersi, nel senso che le cose da fare sono tante, potete andare a cliccare dove non dovrebbe cliccare, eccetera, eccetera, potete anche decidere di creargli un menu ad hoc solo per lui con le 2, 3, 4 task che deve fare tutti i giorni, per esempio andare a creare un articolo, oppure andare a controllare il suo e-commerce, eccetera, eccetera, semplicemente creandogli un menu ad hoc solo per lui là in alto, dove potrà andare ovviamente a settare tutti i suoi contenuti. Bene, direi che è tutto per oggi, grazie per aver visto il video, se vi è stato utile ovviamente lasciate un like al video, lasciate un like al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video, visto che usciranno dei video abbastanza corposi, uno sicuramente sul multilingua fatto con Falang e un altro su delle best practice che metto in atto quando creo dei siti, trovate già in realtà il post sul blog pixed.it con le prime best practice, ci farò anche un video sopra giusto per far vedere con mano come andare a fare queste cose qua, però ecco, iscrivetevi al canale così quando usciranno i video sarete aggiornati in tempo reale. Grazie mille, buon lavoro e buona giornata a tutti quanti.